A termine di una estenuante sfida al vertice abbiamo due delle giocatrici di Ellera, Aurora Messineo e Lucia Cintia. A loro chiediamo subito un commento a caldo su una sconfitta che forse poteva essere evitata con qualche errore di meno, giusto? Assolutamente sì, siamo lasciate andare alla fine, dovevo rifarci in qualche modo, aspettiamo il ritorno perché siamo alla pari, siamo veramente alla pari. Quanto hanno inciso le assenze su questo risultato? Sicuramente hanno inciso, però non è quello che ha fatto la differenza, nel senso comunque noi siamo una squadra, anche se manca del personale, siamo grintose lo stesso e giochiamo da squadra. Chiudiamo con il capitano, gli chiediamo come mai ieri sul Pandora ha messo tutta quella cannella? Beh perché chiude le feste in una maniera diversa. A noi non è piaciuto, per Pianeta Volley Alberto Agliezzi. Grazie. Grazie. Grazie.